Ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa e siamo qua con un piccolo tutorial su Bluffle Title perché c'è una funzione che mi è sfuggita e sicuramente è sfuggita anche a voi e ha un utilizzo un po' particolare adesso vi faccio vedere di cosa si tratta sono su un livello di testo e vado su livelli proprietà del livello in questo pannello abbiamo varie possibilità, quella di assegnare un nome al nostro livello ad esempio testo new e poi abbiamo una serie di proprietà di quel livello da non generare ombre, riflessi, fasci luminosi, insensibile alla nebbia eccetera eccetera ma tra queste voci ce n'era una inserita recentemente che era questa, short elements e come vedete questa voce è disattivata ma allora quando si attiva questa voce e a cosa serve? questa voce è utile quando abbiamo un livello particellare quando noi clicchiamo qui e andiamo ad aggiungere un livello particellare mettiamo ad esempio questi floating picture eccoli qua che arrivano se andiamo su livelli e proprietà livello attivo la voce come vedete è attiva però se voi andate a spuntare non riuscirete da soli a capire cosa fa questa voce e mo ve lo spiego io cancelliamo questo livello e andiamo ad abilitare questo qui che ho già preparato di fondo come potete vedere questo livello di particelle andiamo all'interno va a caricare un disegno png questo disegno png ovviamente avrà un segnale alfa di trasparenza quando queste particelle si sormontano se voi guardate bene abbiamo un profilo nero che in realtà non esiste e va a creare un disturbo sia alla visione che appunto ai pixel nell'area di confine vedete che abbiamo proprio questo è come fosse quasi un outline un bordo nero sulla figura questo ovviamente si andrà a intensificare più o meno anche legato alla trasparenza dell'oggetto e se magari anche di fondo abbiamo un colore un plasma proviamo con qualcosa così può darsi che si noti di più o di meno ecco vedete che ad esempio qua vediamo il buco se notate bene vediamo se riesco a farvelo vedere ingrandito vediamo dove prima esisteva il nero ecco abbiamo i buchi del canale alfa quindi in questo caso sul livello particellare ritorniamo sulla proprietà del livello attivo e come vedete abbiamo detto è attivo questo comando e inserendo questo comando andrà a eliminare questo problema come vedete ora il canale alfa è trattato in maniera idonea e non abbiamo più questa fastidiosa riga nera e bordo ecco cosa serve questo misterioso comando spiegato un po' alla lunga ecco ve lo faccio vedere con quest'altro png della barba ai baffi e vedete che proprio attorno a barba ai baffi c'è appunto nuovamente questo bordo nero e anche ovviamente risulta seghettato in realtà questa cosa si nota meno se le particelle il disegno png è sormontato a se stesso adesso io l'ho fatto ruotare per farvelo notare un pochino meglio questo profilo diventa molto più sottile però se poi appunto andiamo a mettere short element questa cosa si annullerà completamente bene spero che questo tutorial possa tornarvi utile vedete qua ad esempio questa immagine non aveva un canale alfa è stato inserito un effetto di chiave ovviamente per togliere questi porti neri in questo caso andremo a mangiare un po' il nero ma anche in questo caso potrebbe un po' short element aiutarci a migliorare l'effetto io vi ringrazio di avermi seguito mettete un like a questo video iscrivetevi al canale se non siete iscritti per restare sempre aggiornati cliccate anche sulla campanella ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti